300 bambini delle scuole primarie di Colli al Metauro sono stati protagonisti assieme agli amministratori comunali e al personale docente di una mattinata speciale ovvero assistere alla piantumazione di un albero in area verde comunale. L'evento altamente didattico e formativo ha lo scopo di trasmettere alle giovani coscienze uno spirito ecologista e di rispetto per le piante e agli alberi fonte di vita per il genere umano essendo loro produttrici di ossigeno vitale per la nostra sopravvivenza. Pianteremo ogni anno tanti alberi quanti bambini nascono nel nostro comune ha affermato d'alta voce davanti a tutti i bambini schierati il vice sindaco e qui abbiamo la fortuna di avere ogni anno tra i 150 e i 170 nuovi nati pertanto le aree pubbliche adibite a verde verranno preste ripopolate anche di siepi attraverso nuove piantine e che fornivano in passato per la fauna locale un abitato ideale per la loro sopravvivenza cosa che nel tempo però si è persa dato che gli agricoltori hanno perso l'abitudine continua il vice sindaco di delimitare le proprietà con le siepi e quindi alcune specie animali si sono spostate. Poi sotto l'occhio attento dei bambini il sindaco Stefano Guzzi palla la mano ha piantato un acero uno degli otto che sono stati messi a dimora quest'anno nell'area verde e che si sommano a quelli piantati lo scorso anno per alberare questo spazio nel comune di Calcinelli. Indubbiamente piacevole e senza dubbio educativo verso questi ragazzi questi queste bambini e questi bambini è una situazione indubbiamente simbolica quello di piantare alcuni alberi tra virgolette una volta all'anno in occasione della festa degli alberi però è un modo invece educativo di far vedere i bambini intanto come funziona perché molti non si rendono neanche conto in più anche rimarcare l'importanza del rispetto dell'ambiente dell'incrementare la vitalità dell'ambiente proprio inserendo nuovi alberi che arriva? che arriva? che arriva? che arriva? allora ciao 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 ciao